92 veicoli fermati, 104 persone controllate, 6 persone trovate, sotto l'influenza di alcolici, una persona trovata sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, 75 punti, patenti, decurtati. Questo il bilancio della notte di lavoro degli agenti di 4 pattuglie della Polizia Stradale Brescia, Boario, Chiari e Iseo. Nel sabato notte, nei pressi delle discoteche e dei locali più frequentati dai giovani, la Polizia Stradale dall'1 alle 7 ha fermato 92 veicoli e ha sottoposto all'alcol e al drogatest i conducenti. L'etilometro è risultato positivo in 6 casi, per due ragazzi tra i 28 e 32 anni e in due over 32 anni e in una donna di età superiore 32 anni, 75 punti, patente. In tutto sequestrati, notata tranquilla anche sul fronte di incidenti stradali, dopo il sabato drammatico che ha visto morire sulle strade della provincia di Brescia in Val Sabbia, Pier Giuseppe Gerola, 34enne, che abitava nel Cremonese, finito con la sua moto contro un'auto. Grazie a tutti.